in realtà è così anche al di fuori delle guerre purtroppo sono verità ho una grande bocca e diventa sempre più grande non ancora ma non vedo l'ora non credo che tu possa avere una crisi dei 40 anni quando sei in una band ce l'hai quando non ci sta idea saper suonare un strumento saper cantare caramelle gratis decent air cup e poi anche un taglio di caffè lì abbastanza decente